Si chiamava Philippe Paxton, aveva 47 anni d'età, nel North Carolina negli stati di America, non c'è più, è morto. Dopo un terribile incidente stradale, guidava un'automobile e precipitata l'automobile da un ponte che era crollato, stava seguendo le indicazioni che Google Maps gli aveva fornito. A volte Google Maps, possiamo dirlo, a mio avviso, secondo la mia opinione, non è aggiornato. In questo caso sembra quasi che la porta si sia verificata perché le mappe non sono state aggiornate per tempo. E adesso la famiglia cerca spiegazioni e ha deciso di fare guerra aperta o meglio di denunciare Google, il re del web, per eccellenza. Pensate che Google Inter entra in sé e ha un navigatore, Google Maps, ha YouTube, la piattaforma che sto utilizzando, ha Maps, ripeto, ha Gmail, un servizio anche di posta elettronica, ha un suo browser che è Chrome e ha una marea di servizi. Tutto fa parte di Google. Quindi è un mondo vero veramente sestante. Infatti la famiglia avrebbe i termini responsabili proprio Google, la piattaforma di cui mi servo ogni giorno per fare i miei video, perché secondo proprio la famiglia in questione non aveva aggiornato le mappe e quindi l'uomo è finito in questa condizione, in questo luogo, rincadendo giù senza che sia stato segnato niente, perché su Google Maps non figurava. Incredibile ma vero, dunque adesso vediamo quello che accadrà in futuro. Speriamo che ci sia un degno riconoscimento economico per la famiglia di Philip Paxton. Philip riposi in pace. Grazie.